8 skip la madonna Oh mio dio che figata di libro Bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Questa oggi ragazzi siamo qua con il 21esimo episodio della reazione alle vostre clip Su Brawl Stars Da oggi ragazzi ci sarà una piccola novità per quel che riguarda l'invio delle clip Infatti dall'episodio prossimo le clip non le prenderò più tramite mail Ma tramite il modulo che trovate giù nella descrizione Per inviarmi la clip d'ora in poi dovrete caricarla su youtube E poi mi inviate il link a quel modulo Poi chiaramente se non volete che la clip sia pubblica E che posso vederla solamente io insomma si può fare Per chi non sapesse come si fa questa cosa Basta che andate in quel link in descrizione dove vi ho lasciato anche un piccolo tutorial Quindi mi raccomando date un'occhiata al link qua sotto in descrizione Anche lì trovate tutto E quindi partiamo immediatamente da Gix Ubi con Giacchi Attenzione rimbalzini incredibili fatti Si parte così un bel doppio rimbalzino Molto pulito Con il Bolli davanti che non l'ha presa Ma andiamo avanti con la prossima clip Abbiamo Gix MrFolly Questo qua è uno spot molto classico per fare i doppi rimbalzi Vediamo se mi stupirà Vediamo 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 Infatti fa un doppio rimbalzo Beh c'era comunque la tale lì davanti Dai diciamo che tutto sommato ci sta Andiamo avanti con la prossima clip Abbiamo adesso fu Non è vero abbiamo Tostarollo Tostarollo che fa un salvataggio incredibolo Ma poi brother Fa un altro E ne fa due ragazzi Perché uno non gli bastava Eh qua purtroppo non ha tempo per fare il gol Doppio salvataggio più gol sarebbe stato veramente assurdo Comunque andiamo avanti con Manu Ah già fatto Che è successo Manu Prossima clip Ritorniamo su Rapina Ultimamente mi state mandando molte clip su Rapina E ho come il presentimento Che anche qua le box rimarranno entrambe Lì lì per la fine E accadrà qualcosa Infatti vedi già quella nemica Undici Quella alleata Uno zero È rimasta con 844 GG Ma andiamo avanti con la prossima clip E tozza Qua abbiamo Dark Joker Attenzione Lo vedo molto propenso a fare i balzi incredibili Ce l'ha È lì È pronto Ha proprio il tasto sulla Sull'ultimate È pronto per sganciarla Infatti eccola qui È la tira Molto classico in realtà come spot Ma Col broccoli davanti Assimperò di fascino Prossima clip Abbiamo un box opening ragazzi Ok abilità stellare Fino qua Però la clip dura due minuti Quindi ipotizzo che Però non ne vedo altre di box Ah Va nello shop E nello shop Cos'è che mi combini brother Ha fatto le 10.000 coppe Timelapse Sul futuro E niente Ok mega cassa Perfetto 10.000 coppe fatte 8 skip La madonnina Ma non è che magari C'è anche la reazione C'è la reazione Ah non ha detto niente qua È stato muto ragazzi Oh mio dio Ecco dopo un po' Oh mio dio Sta succedendo veramente Si sta succedendo veramente Bro però non dirmi il targagget Ma do quanto lagga il gioco Vai bro Vai bro Vai bro No gadget no Gadget di Shelly No gadget no 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 Dimmi un brawler Vediamo Vediamo Si sei contento ma No bro No 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 Tutta s'esultazione Non esiste questa parola Comunque per Jackie bro No Non l'accetto 8 skip per trovare Jackie No che peccato 8 skip Buttati Così Mannaggia Ma andiamo avanti con la prossima clip Abbiamo Non so chi Razer Che apre una box E trova Semino Giustamente Ed è così Che di solito Sei davano in brawler GG per semino Bro ci sta Non ci credo Non ci Andiamo avanti Ma raga c'è sempre vero consulino Ma che ogni volta Io pesco sempre la clip Sì brother Mi fai questo doppio rimbalzo E va bene Me lo dici Ragazzi è sempre vero consulino Una bottazza di mule Ma andiamo avanti Ora con star bomb Che ci combini brother Giustamente Ha spinto indietro al clone Anche con l'altro clone Ah no Ora non ci lasca più E ora Ora si è avvicinato il ve Aspetta no Zì se la riesci Se la riesci a trollare così Non ci voglio credere No star bomb Cosa mi combina No però Cosa mi hai combinato Oh mio Dio Che figata di clip Andiamo avanti Con la prossima clip E tozza Madonna ci sono i nemici Che hanno 31 power up E il nostro amico Ne ha 6 Come la fai a vincere Scusami Torna in vita la shell No è un bombardino Wow Infatti ma Ma come è che è possibile Sta cosa Vabbè GG Andiamo avanti Un'altra box opening E oggi è proprio La saga Dei box opening Ha trovato Jackie Nella cassettina piccola Ma c'è anche la reazione No non c'è la reazione No c'è solo l'ora del gioco Peccato Vabbè Comunque ha trovato Jackie Ok Poi che trovi Eccolo Gadget di pub Raga io Che devo fare il box opening Voglio anch'io Robbe a profusione Se trovo anche altro Nel senso Hai tre casse enormi Zì Che mi trovi Nella prima niente Nella prima niente Cosa Ha trovato di tutto Ragazzi Ma che è Ma perché mi sto per mettere Le cuffie poi Ma andiamo avanti Ora con la prossima clip Abbiamo Marco Il pazzo Che Che ci come Occhio Fa il bugoz Il frencone usa Il gadget Grande ma Accusato Direi Egregiamente Andiamo avanti Ora con la prossima clip Abbiamo Astrodoc Che attenzio Eh ora Hai perso Tira la palla È perso Però la palla Andiamo avanti Ora con la prossima clip Abbiamo Ita Giulio Che fa questo L'imbalzino In fin di vita Con quello Il primo Che Sì Lo stava riprendo A cazzotti Ma la palla Comunque è andata Ragazzi La palla Dove deve andare Prossima clip Di Dragon Game Questa cosa Andiamo avanti Con la prossima clip Abbiamo Di chi è Di Alpha Mi sa che è di Alpha Prende la palla Con Mortis Tranquillo Spensierato Lui è andato Ragazzi Andiamo avanti Con la prossima clip Abbiamo Custa Che si trova In un panino Anzi in realtà È proprio la scuola Nemica quella Per cui È lì Da solo Nel centro Fare un po' Di slalomization Direi che c'è anche Riuscito bene Torna il compagno E che succederà Qua nel mentre In realtà I nemici Non è che si trovano In questa situazione Stratosferica Infatti La vincono Andiamo avanti Con la prossima clip Abbiamo due Il primo Uno con 12 power up L'altro con 20 E giustamente E giustamente Vabbè ha vinto Se mi ha mandato La clip E infatti ha vinto Prossima clip Abbiamo Credo Sophie Che è lì Si si vede Che sta per fare Robbe incredibili Ha preso L'alti Sta aspettando L'omento giusto Infatti Standa E finisce così Andiamo avanti Con la prossima clip 7 skip Ragazzi Ma lui Tranquillo Non ragiona Lui va Intanto abbiamo anche avanti Un altro Di sottofondo Anzi Ciao Darwin Cioè io non ci credo Vabbè Ok Giustamente Su Beryl Non ci crede Ma No vabbè raga No 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 Non è tutto rotto Sto gioco è tutto rotto È tutto rotto Andiamo avanti Con la prossima clip Ma ancora Box opening Ma che è oggi Che mi trovi qua bro Sei skip Eee Aspetta C'è la reazione Ah tra l'altro Quale è il telefono Anche Oh Oh Che ci trovi No Ma ancora Non ci credo Te la faccio anche vedere Ha 5000 coppe Spike Nella cassa Del cammino di tre Che si dice Che bottazza Di culen Parliamo correttamente Ragazzi Andiamo avanti Con Gix Lo stuprador Con Penny Attenzione Si vede che vuol fare Rimbalzi a Nobali Infatti Eccotelo qui E lo fa E quindi raga Per questo episodio Direi che possa essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando un bel like Iscrizione con campanellira Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti